ben ritrovati allora in diretta con questo evento un evento che è unico nel suo genere perché difficilmente trovi qualcuno che si mette a disposizione per rispondere alle tue domande concrete per il tuo caso studio e qualcuno che lo faccia insomma in maniera così spontanea diciamo che non è scontato naturalmente le domande sono veramente molte già chi ha fatto le domande nei giorni precedenti mi ha riempito l'agenda quindi 29 minuti non sono così tanti riuscirò a dare risposta a quelle che posso poi ci saranno altri eventi in cui continuerò a dare le risposte alle vostre specifiche domande ed è per questo motivo che allora ti ricordo di iscriverti al mio canale e soprattutto di cliccare sulla campana in modo da ricevere la notifica dei prossimi eventi online e rimanere aggiornato anche sui miei nuovi video in modo da essere in continuo aggiornamento e sempre ed essere sempre sul pezzo quindi come funziona oggi oggi funziona che avete a disposizione la chat qui in basso a destra dove potete fare le domande in diretta le vostre domande e già ne ho ricevute molte darò priorità a quelle fatte in diretta oggi e poi darò seguito invece a quelle già registrate nel modulo che trovate trovavate nel link precedente e non sono qui assolutamente a fare il professore non sono qui insegnare nulla ma riporto semplicemente la mia esperienza visto che in questo lavoro ci metto anima e corpo e lo faccio dalla mattina e sera tutti i giorni della settimana ecco poi concedetemi il sabato pomeriggio la domenica di riposo tutto quello che dico e i miei pensieri che racconto nella mia professione li applico anche nella mia vita infatti non so se avete visto avete modo di vedere il video che ho realizzato lo trovate qui nelle playlist è il video che ho realizzato a casa mia dove ho installato anch'io ovviamente una pompa di calore una casa completamente elettrica se sono una persona seria oppure no non sono io a dirlo sicuramente sono i clienti con cui io e i miei partner installatori collaboriamo i clienti che ci lasciano le recensioni che per fortuna sono tutte positive anzi penso che siamo tra i pochi ad avere tutte le recensioni positive comunque ci vai su www.samueletrento.it in basso a sinistra trovi le recensioni google allora partiamo allora con le domande e la prima domanda che mi viene fatta da giorgio ho due domande da farti la prima mi si propone un bollitore sanitario da 520 litri ipotizzando due dolci al giorno avrò un ricambio dell'acqua una volta alla settimana ma non è che l'acqua stando a 50 gradi all'interno del bollitore provoca batteri tra cui il più insidioso quello della legionella allora sicuramente i 50 gradi non è il clima ideale per proliferare dei batteri della legionella e la temperatura ideale sono i 40 gradi quindi acqua ferma stagna a 40 gradi ecco quella si è la condizione ideale per avere la proliferazione dei batteri della legionella nel tuo caso 7 in due persone 520 litri sono abbastanza esagerati c'è il rischio che utilizzate poca acqua quindi l'acqua rimane ferma lì nel serbatoio e quindi la legionella potrebbe anche presentarsi ovviamente tutte le pompe di calore immagino anche quelle che ti hanno proposto hanno un sistema anti legionella che prevede di portare l'acqua a più alta temperatura quindi a portarla a 60 gradi per bruciare tra virgolette quindi per andare a disinfettare il bollitore andare a togliere e eliminare quei batteri sono batteri per chi non lo sapeste che sono pericolosi per i bambini molto piccoli quindi neonati oppure per gli anziani la legionella non è stata inventata con l'arrivo delle pompe di calore ma la legionella esiste da sempre anche nelle caldaie con il serbatoio all'interno esiste da sempre perché appunto la legionella nasce e cresce prolifera in serbatoi di acqua tiepida o meglio cala dove c'è un ambiente appunto stagnante a 35 38 40 42 gradi quello che ti chiedo di porre attenzione è che la pompa di calore per fare l'anti legionella non utilizzi la resistenza elettrica ecco ci sono pompe di calore che utilizzano la resistenza elettrica per arrivare a 60 gradi ecco accertati che quello che ti hanno proposto non faccia non faccia così l'altra domanda che mi fa giorgio è la pompa di calore idronica cosa succede se si blocca in inverno l'acqua dei tubi si gela allora questa è una bella domanda sicuramente ci potrebbe essere un rischio di congelamento però facciamo i seri e i pratici soprattutto allora se per mistero per c'è un blackout che per 3 4 5 giorni rimani senza corrente allora sì e la temperatura esterna è sotto zero allora sì c'è il rischio di congelamento allora cosa si fa si va a scaricare l'impianto tra la macchina esterna e l'accumulo interno ovviamente non si va a scaricare tutto l'impianto di riscaldamento ma l'installatore prevederà delle saracinesche proprio in corrispondenza poco prima del volitore dell'accumulo del buffer e la macchina esterna c'è da dire che se per 4 5 giorni c'è un blackout e la temperatura rimane sempre sotto zero i problemi saranno ben maggiori e non coinvolgeranno solo la pompa di calore ma ci saranno problemi legati anche il contatore dell'acqua che potrà scoppiare quindi attenzione insomma stiamo parlando in caso estremo che potrà portare altri problemi l'inverno scorso è stato piuttosto freddo non questo del 2018 quello del 2017 ci sono stati dei giorni in cui le temperature sono anche sotto zero e anche le caldaie condensazione hanno avuto grossi problemi nel scarico della condensa infatti del tubo i fumi hanno lo scarico della condensa dove ci sono delle goccioline di condensa questi scarichi di condensa se erano all'esterno si sono congelati c'erano condomini interi bloccati perché si è formato un tubo di ghiaccio che non permetteva lo scarico della condensa allora procediamo poi con le domande e vado avanti con la domanda di alberto che mi chiede con un pompa di calore on off la temperatura in casa sarà sempre costante oppure tra un'accensione e l'altra potrebbe variare anche di due gradi no alberto allora che sia una macchina on off o inverter la temperatura dentro casa rimarrà sempre costante o meglio oscillerà attorno un range tipicamente questo questo range viene chiamata in gergo tecnico isteresi oscilla tra i 0,3 e 0,5 gradi cioè se tu imposti in casa a 20 gradi la pompa di calore o meglio riscaldamento a pavimento radiatori partirà quando scenderai di 0,3 gradi cioè a 19 9,7 la pompa di calore all'esterno invece non se ne preoccupa più di tanto lei a lei interesserà di tenere caldo il puffer quindi l'accumulo di acqua tecnica che all'occorrenza sarà utilizzato nell'impianto pavimento quando il termostato dentro casa chiama quindi non è che tu rimani al freddo quando la pompa di calore è spenta perché c'è comunque un puffer quindi un accumulo tecnico che rimane caldo e isolato quindi la pompa di calore può essere spenta e tu hai il tuo puffer caldo e all'occorrenza viene utilizzata questa acqua quando il termostato dentro casa chiama quindi le cose vanno ben separate on off inverter con temperatura dentro casa sono due mondi separati che comunicano ma non vuol dire che l'on off ti lascia il freddo poi ci sarebbe da aprire veramente un mondo e probabilmente lo farò in qualche video futuro tra per distinguere le pompe di calore on off e le pompe di calore inverter qual è meglio l'on off oppure l'inverter non posso darti qui la risposta sicuro è che la tecnologia on off essendo molto più datata e avendo molto più storico è affidabile e quindi dura di più nel tempo rispetto alla tecnologia inverter che è abbastanza recente e ti posso dire un'altra cosa tutte le celle frigorifere contenenti verdure carni pesce nelle grosse aziende le celle frigorifere di 20 30 anni fa avevano compressori di tecnologia on off che a tutt'oggi stanno lavorando e non danno problemi perché perché mi hanno insegnato sul lavoro in realtà me l'ha insegnato anche mio nonno che quello che c'è si può rompere quello che non c'è non si può rompere quindi cosa voglio dire con la tecnologia inverter il sistema diventa un po più complesso e quindi anche le probabilità di rottura possono essere maggiori poi chiudo l'argomento on off inverter perché lo approfondiremo in un'altra occasione dicendo che non so se hai notato ma tutte le macchine di prestigio degli ultimi anni quindi BMW, Audi, Mercedes e così via ma non solo stanno utilizzando la tecnologia on off ovvero lo start and stop ai semafori agli stop si spengono perché allora non era più conveniente tenere la macchina accesa al minimo anziché spegnerla completamente no perché le ore di funzionamento del motore comunque aumentano tu stai fermo 5 minuti qui 5 minuti lì al semaforo e intanto le ore di lavoro del motore continuano ad aumentare aumentando le ore di lavoro diminuisce la vita cioè si rompe prima il motore ecco che allora anche nelle automobili la tecnologia on off sta ritornando perché? Perché utilizza meno ore di lavoro e quindi allunga la vita del motore ecco per darti qualche spunto ma non entriamo nei dettagli Mauro mi scrive scusa per la banalità della domanda ma in caso di blackout sulla linea elettrica a causa di lavori o guasti alla rete cosa succede? vabbè questa è una bella domanda che mi fanno in molti è una domanda che trova una semplice risposta se c'è un blackout ad oggi anche la tua caldaia a gas si spegne perché le caldaie senza energia elettrica non funzionano quindi il problema ce l'hai anche oggi pur non sapendolo ma in realtà ce l'hai anche oggi mentre con la pompa di calore ho un enorme vantaggio le pompe di calore accumulano acqua all'interno di un bollitore perché non riescono a fare acqua calda sanitaria istantanea e questo è quello che ha il vantaggio che se c'è un blackout e mi fa via la corrente elettrica ho comunque acqua calda accumulata pronta per farmi ancora 2, 3, 4, 5, 6 docce cosa che non potrei avere se ho una caldaia a gas metano istantanea quindi diciamo se ho un blackout meglio con la pompa di calore che con la caldaia a metano Germano invece mi scrive attualmente ho una pompa di calore ecco non mi piace fare pubblicità nomi o quant'altro però inizia con la V di Venezia installata con dei problemi che il centro assistenza non riesce a risolvere voi siete in grado di trovare una soluzione beh Germano dipende se i problemi sono legati al controllo della macchina quindi alla centralina della macchina ai parametri della macchina ti devo dire di no perché non conosco quel tipo di modello conosco la marca ma è famosa ma non conosco il modello e non entro nello specifico se invece il problema è legato all'impianto cioè che la macchina va troppo in sbrinamento oppure non riesce a riscaldare casa o consuma troppa energia elettrica allora sì lì possiamo anche darti una mano perché allora lì magari c'è qualche problema di fondo in fase progettuale e poi sempre Mauro mi scrive e conviene sempre avere 4,5-6 kilowatt di contatore con il gestore elettrico cioè devo aumentare la potenza del contatore per avere una pompa di calore allora la risposta è sì se tu punti a una casa completamente elettrica devi avere 6 kilowatt di contatore perché? perché mediamente 2, 3, 4 kilowatt ti vengono assorbiti dalla pompa di calore per riscaldamento ovviamente dipende dalla potenza della pompa di calore più grande è e più assorbe poi aggiungici una lavatrice che da sola ti assorbe un kilowatt e mezzo, due kilowatt un'asciugatrice una lavastoviglie anche lei è un kilowatt e mezzo, due kilowatt il forno altri tanti il phon il phon un kilowatt e mezzo te lo assorbe tutto quindi se vuoi una casa completamente elettrica stare sereno e poter utilizzare gli elettrodomestici come meglio credi un 6 kilowatt è d'obbligo anche se hai un impianto fotovoltaico poi se vogliamo entrare nello specifico del monofase oppure trifase beh allora ti dico che un impianto trifase è una buona soluzione soprattutto sulle case di certe dimensioni quindi da 200 metri quadri in su io ti consiglio un contatore trifase perché? perché se tra 5 e 10 anni avrai anche un'auto elettrica l'auto elettrica se vuoi ricaricarla velocemente deve avere un contatore trifase quindi in prospettiva predisponi già tutto trifase le pompe di calore trifase sono anche molto più performanti di rispetto a quelle monofasi e tu vai tranquillo con i tuoi carichi con la tua casetta e con la tua auto elettrica Cristian invece mi scrive sarebbe utile sostituire i radiatori con altri più efficienti o meglio con temperature di lavoro inferiori sì Cristian allora se devi ristrutturare casa e hai la possibilità di cambiare i radiatori perché magari sono vecchi sono brutti sono sbiaditi dovresti ricolorarli quindi il consiglio è quello di sostituirli con radiatori nuovi con maggiore superficie in modo che possiamo lavorare con temperature più basse dell'acqua all'interno perché i radiatori piccoli e con poca superficie ti costringono a mantenere la temperatura all'interno anche a 60-70 gradi per poter riscaldare se invece prendi i radiatori magari anche in alluminio allettati quindi con grandi superficie di scambio anche con 45-48 gradi riesci a riscaldare casa e questo è molto importante perché la pompa di calore lavora meno lavora a più bassa temperatura un COP più alto e quindi consumi elettrici inferiori e bollette in più sottotabili poi Andrea mi scrive innanzitutto grazie per il tuo tempo le spiegazioni sempre chiare e precise ok sto ristrutturando casa e volevo sapere se oltre alle pompe di calore di marca K ok giusto per non fare pubblicità se anche quelle con la V di Venezia è un buon prodotto dal basso consumo energetico e dalla buona affidabilità si tratta di scaldare con pavimento radiante 140 metri quadri di piccola abitazione a me in definitiva basta sapere se si tratta di un buon prodotto con consumi sotto i 500 watt a regime allora come ho detto in altri video per capire se è un buon prodotto affidabile e professionale devi basarti sull'esperienza del produttore farti dare i cataloghi di dieci anni fa per vedere se all'interno dei cataloghi c'erano già le pompe di calore oppure se le hanno inserite solo negli ultimi 3-4 anni perché c'è la moda delle pompe di calore e assicurati che costruisca solo pompe di calore e che non faccia altro come caldaie solare termico condizionatori e così via quindi deve essere un'azienda che costruisce quel tipo di prodotto almeno da dieci anni e i 500 watt probabilmente c'è un po' di confusione una pompa di calore per riscaldamento difficilmente consuma meno di 500 watt sono quelle per acqua calda sanitaria che assorbono meno di 500 watt quelle per riscaldamento almeno un kilowatt e mezzo due kilowatt li assorbono quindi non basarti tanto sul discorso dell'assorbimento elettrico ma piuttosto sui COP quindi sul COP che è l'efficienza della pompa di calore quella sì che è da molto è un parametro da valutare e da controllare e qui mi collego a una domanda che mi viene fatta molto spesso e che è il COP è più importante a 7 gradi o a 2 gradi oppure a meno 7 gradi la risposta e la verità sta sempre nel mezzo come si si suol dire no il COP a meno 7 sì è indicativo ma non moltissimo perché perché i meno 7 gradi anche in Nord Italia vengono toccate per poche ore all'anno non al giorno all'anno il parametro più e quando al di fuori ci sono meno 7 gradi significa che l'aria è molto secca e c'è poca umidità e questo va molto bene alla pompa di calore possiamo dire per assurdo che le pompe di calore sono più performanti a meno 7 che a più 2 gradi infatti più 2 gradi è la condizione critica per le pompe di calore perché fa freddo e c'è un alto tasso di umidità alta umidità significa particelle di acqua che si posano sulla batteria esterna della pompa di calore e in tempi molto rapidi tappano la pompa di calore creando uno strato di ghiaccio vai a vedere qualche mio video dove trovi alcune pompe di calore che trovi anche semplicemente su YouTube cercando dove si vede uno strato proprio un tappo di brina e di ghiaccio che impedisce il passaggio di aria all'interno della pompa di calore nella macchina esterna sto parlando questo è molto importante perché come ho già detto la pompa di calore recupera energia gratuita dall'aria e un po' di corrente la corrente è quella che paghi se tu non gli dai aria che è l'unica fonte gratuita che riesce a prendere la pompa di calore si prende tutto dalla corrente cosa significa che la pompa di calore schizza come consumi elettrici consuma un sacco ti arrivano bollette salatissime perché perché diventa quasi una resistenza elettrica quindi si prende tutta l'energia dalla corrente dall'energia elettrica e non ce la prende dall'aria che sarebbe gratuita quindi ecco il motivo per cui sono fondamentali e fondamentali gli sbrinamenti perché perché se non do l'aria gratuita alla pompa di calore consumerà un sacco un'altra domanda che viene fatta che viene fatta molto molto spesso riesco a riscaldare casa gratis se ho il fotovoltaico la risposta è no o perlomeno nell'immediato nell'istante no non è che il fotovoltaico ti copre il consumo attuale della pompa di calore e chi ti dice il contrario è un bugiardo poi se invece facciamo il conto annuale quindi se consideriamo tutto quello che produce nel fotovoltaico consideriamo lo scambio sul posto le eccedenze e il consumo annuale della pompa di calore se faccio un bilancio allora sì riesco a coprire con il fotovoltaico i consumi della pompa di calore e anche della casa ma non istantaneamente e ti faccio un esempio molto concreto e semplice considera che mediamente a gennaio una pompa di calore può consumare dai 20 30 40 kilowattora elettrici in una giornata dipende ovviamente dalla casa se è una casa isolata se non lo è dipende dai radiatori o dall'impianto pavimento ecco da tante cose ma mettiamo il caso un caso che la macchina consumi 30 kilowattora in un giorno per produrre 30 kilowattora in un giorno a gennaio ti ci vorrebbe un impianto fotovoltaico da 30 kilowatt perché a gennaio nel nord Italia il fotovoltaico produce una volta la sua potenza di picco quindi se ho un impianto da 6 kilowatt a gennaio mi produrrà dei 6 ai 10 kilowattora in un giorno 10 kilowattora non è neanche un terzo dei 30 kilowattora se considero poi anche che la casa ha il suo consumo quindi la casa avrà altri 10 12 kilowattora 15 kilowattora in un giorno e quindi il fotovoltaico da 6 kilowatt consuma cioè produce giusto giusto l'energia per coprire i consumi della casa a cui poi bisogna aggiungere anche quelli della pompa di calore ecco quindi assolutamente non è vero che il fotovoltaico ti permette di riscaldare casa gratis istantaneamente però nel bilancio annuale sicuramente da un grosso contributo una domanda che può essere molto interessante per tutti che mi viene fatta spessissimo ma che incentivi ci sono su queste pompe di calore beh gli incentivi sono diversi c'è la detrazione fiscale al 50% c'è quella al 65% che è quella più conveniente ovviamente sono detrazioni fiscali che durano 10 anni e poi c'è il conto termico che viene utilizzato poco e quello è molto molto interessante perché il conto termico ti permette di portare a casa dei soldi subito nel giro di 4-5 mesi dalla fine lavori se l'incentivo invece è più alto di 5.000 quindi se il tuo contributo supera i 5.000 euro ti permette di portare a casa i soldi in conto corrente senza detrazioni fiscali ti permette di portare a casa i soldi in due anni la prima rata metà ti viene data dopo 4-5 mesi dalla fine lavori la seconda rata ti viene data dopo 12 mesi ecco quindi informati bene sul conto termico perché il contributo non viene deciso dal primo che passa per strada ma viene deciso dal produttore della pompa di calore stessa perché il contributo è variabile a seconda della potenza della macchina e delle performance della macchina quindi più efficiente è la pompa di calore più potente è e più alto sarà il contributo anche lì potrai vedere a parità quindi di marchi e quella che prende un contributo più alto è quella naturalmente più efficiente un'altra domanda da parte di lauro che mi scrive con l'impianto fotovoltaico ritengo necessaria la programmazione dei consumi posso dare una precedenza ma ad esempio prima il frigo poi la pompa di calore poi le piastre in induzione 4 lavastoviglie 5 lavatrice allora sì puoi sicuramente programmare e dare delle precedenze sicuramente il frigorifero non puoi dare una precedenza ma devi dare continuità sempre e come pure il piano in induzione perché dubito che tu puoi dire a tua moglie guarda fermati nel far da mangiare perché abbiamo la pompa di calore che funziona oppure fermati perché abbiamo la lavastoviglie attaccata ecco quindi piano in induzione e frigorifero ovviamente hanno la precedenza e puoi dire invece alla pompa di calore spegniti se sto superando i consumi elettrici impostati quindi sì la pompa di calore puoi spegnerla tanto con l'inerzia della casa quindi se stai scalando casa e spegni la pompa di calore nel giro di 10 minuti non è che si raffredda rimane comunque calda e va avanti anche per ore se è una casa ben isolata puoi invece puoi andare avanti anche per quasi un giorno 24-36 ore senza che si abbassi troppo la temperatura al suo interno naturalmente invece lavastoviglie e lavatrice quelle sì possono essere programmate perché anche se le spengo non succede nulla con soprattutto quelle di ultima generazione che hanno il contatto predisposto per la chiamata da parte di un accessorio esterno allora con questo io concludo questo primo evento in diretta spero che vi sia stato d'aiuto le altre domande come vi dicevo se ne avete anche altre scrivetele pure nei commenti a questo video qui sotto quindi c'è il video con i commenti scrivete tranquillamente le vostre domande io le raccoglierò per quelle che mi avete fatto prima di questo video metterò un link sempre in descrizione con le risposte sarà un pdf quindi avete le vostre risposte belle e pulite ricordati di iscriverti al mio canale per ricevere le notifiche per i prossimi live i prossimi eventi in diretta e non rimanere a piedi e soprattutto clicca sulla campana per essere aggiornato e anche per ricevere i nuovi video se vuoi approfondire e entrare proprio nel tema della bomba di calore vai anche sul mio blog www.samueletrento.it e lì troverai alcuni articoli interessanti e troverai le realizzazioni che i nostri partner fanno tutti i giorni perché io collaboro con progettisti e installatori in diverse regioni d'Italia e quindi collaborando con loro ci permettono di coprire diverse zone anche la tua magari vi ringrazio di aver partecipato a questo evento e vi do appuntamento al prossimo va bene ciao 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 Grazie.